ciao volevo dirvi che oltre a quella skin che vi ho detto che mi piace che sentirete in questo video mi piace anche quella del bonus quella speciale quella che mettono in più rispetto al pass e e poi volevo dirvi che il video lo vedrete domenica e non sabato anche se il video dico che lo vedete sabato e lo vedete domenica e avete il video di fortnite e non avete la live quindi spero che vi ho avuto bene e ditemi cosa su destiny 2 come devo fare che nel video ve lo spiego vi dico qualcosa e buona visione ci vediamo al prossimo video e guardatevi i video a presto benvenuti in questo video sono generale 5 e siamo su fortnite nuova stagione nuovo pass e vedremo insieme il pass e anche il trailer anche se ce l'hanno già spoilerati nell'evento quindi c'è poco da vedere però vediamo adesso vediamo se mi fa entrare perché se non mi fa entrare è un problema dovrebbe partire un trailer 1 2 tele trailer non lo so adesso vedremo comunque dovrebbe partire qualcosa ok sembra che stia andando io prima ho fatto video di destiny così ho fatto qualcos'altro in attesa così ho sistemato le cose ho fatto un po quanto e adesso siamo qua su fortnite ok queste sono le skin ah sono due stili ah possiamo comprarlo ok un attimo ah un altro filmato ok snoop dog deve se si chiami così non lo so ok questo l'abbiamo già visto nel trailer nel filmato dell'evento lei è bella prima che sia nel pass se sono le mizze quindi sarà un po miscui di skin fatte vabbè pubblicità la canzone non prepariamoci sopra per farla sentire è bello bello sto trailer è incredibile vorrei ah c'è ancora la bomba ballerina a quanto pare forse in tema del personaggio ok adesso vediamo quelli che si sbombadano su una nave quindi sono tornati i motoscafi ok va bene vediamo insieme qua ok il video ve lo caricherò il prima possibile magari il giorno stesso se riesco allora ve lo edito e poi ve lo carico su canale i cecchini ci sono mi tagliatrice ok abbiamo già il copy di questo canzone oh torna questa tutta quello del cubo lei la riconosco ok tutte le schiene le ho viste ok prima di andare avanti mettiamo intanto privato ah se lo già ok perfetto mettiamo le impostazioni qui no io voglio che rimanga così mettiamo in modifica ah ho modificato questo qua sotto applica ok perfetto così non c'è blocco di copy perché è almeno il pasto di me lo vedremo bene ma prima di dirvi questa cosa voglio parlare di Destiny 2 perché non so se ve lo dirò anche su Destiny 2 però è successo un problema quando facevo la mappa di Kai non so chi è molto afferrato di Destiny 2 non mi faceva andare avanti quindi ditemi come c'è una cosa che riguarda la storia di anche se non c'è molto con Fortnite se riguarda la storia di di se riguarda appunto il fatto che dovevo comprare il gioco per avere appunto il petto di storia aggiuntivo oppure se era davvero un bug ditemi nei commenti beh adesso partiamo ottieni PA in Fortnite gioca a modo tuo lanciati nell'esperienza di fuori che preferisci ottieni 140.000 per sbloccare il piccone falso e dorato ispirato a Mida fino all'11 novembre quindi prima dell'11 novembre devo fare 140.000 esperienza ok vabbè in questi giorni cercherò di farne il più possibile però non posso assicurarti niente Remix capitolo 2 rivisite i classici nell'isola capitolo 2 remizzate e rivisitate con nuovi luoghi, bottini e giornate ogni settimana ispirati all'icone della musica Snoop Dogg, Eminem, High Spice e Juicy, Brood World premi play, alz' volume e lasciati prendere il ritmo dal capitolo 2 remizz di patria reale pass remix the dog bug pass musica, fai progress ovunque ah c'è un nuovo pass musica Snoop Dogg ok ah vabbè non ho capito vediamo il negozio se c'è roba nuova oh arrivano i 7 equipaggiamento salvati dai oggi puoi collegare puoi collegare tutti i tuoi present preset in un unico set equipaggiato salvato ehm ehm per ora salta ah è cambiato R2 R2 apre questo qua c'è un emote c'è questo c'è questo strumenti strumenti tracce gem e kit lego cambiato un pochino eh però va bene vedremo se se non lo scombinano troppo la skin ce l'abbiamo apposta per vedere il pass battaglia il negozio vediamo se qualcosa è nel negozio prima vuole acquistare il pass battaglia che vediamo come sarà il pass battaglia ok abbiamo snoop dog costa 1800 no c'è il copyright eeeh ok c'è anche la sua macchina la sua auto qui sono i giocatori eh vittoria saint non è male però non la prenderò eh non è male vittoria saint punto luce ah è tipo lampadina raffalla che bello però non lo prenderò lo stesso ok basta finito ok direi che costiamo il pass battaglia 950 fammi vedere se nel pass battaglia ci sono 7 pagine 3 4 5 6 7 8 8 qua 910 ah quindi ti ridanno il vbac che hai speso ok ho capito ok nito grifferina l'ho capito facce dorata tipo una settimana o un giorno giornalieri settimanali review App Ricompensa chiave Fonati rientro Aspetta ma riavvio Un'altra cosa Fonati rientro classifica Ah c'è un altro piccone A 100 ah ok più basso Ok Già ha più senso Fai a vedere le ricompense Allora abbiamo questo qua Che gira Ok abbiamo le spade Abbiamo questo spray Che non è male Abbiamo questo cane arrabbiato Questo qua è mascherato Ok lui L'ho capito Lui Questo Questo qua è il piccone Non si direbbe ma Sai reagire Beh è bello come piccone Beh Proverò a sbloccarlo Aspetta No non volevo attivare quella cosa lì Stiri anteprima Non me li fa vedere Ok direi che Siamo passati 9 minuti Ah è cambiata la mappa Ok Vabbè li vedrò poi Giocandoci Giocandoci Li vedo Tanto il pass battaglia Dura di meno Quindi Dovrebbe Quanto finisce il pass battaglia Primo dicembre Quindi dura un mese E quindi E quindi Anche se Primo dicembre Primo dicembre Quindi vuol dire che dura un mese Praticamente Qui c'è il pass festival Pass musica Che non mi interessa Assolutamente Magari ve la taglio Qui in parti Perché sennò diventa noioso Adesso vediamo Adesso vediamo quanto ci mettiamo Adesso intanto Acquistiamo il pass battaglia Perché Anche se Non è molto conveniente Io lo voglio avere 1400 la skin Vabbè Non mi piace Però vabbè Per lo stesso Prendiamoci questo Le monete ce le abbiamo Quindi Possiamo prendercelo Remix 6 di livello Per bloccare Oltre 50 Ricompense Tra cui 5 costumi In stile forte 5 costumi In stile lego 3 tracce gemmi In festival 2 strumenti Di festival Un paio Di cassature Qua vedi Cassature E fino a 1000 vback Ok Compriamolo Ah Possiamo comprare Quello maggiorato Ma non mi interessa Aggiungere solo 10 livelli Cioè E non Non è conveniente E poi anche se E fosse convinto Non lo prenderei Vai Prendiamolo Ok Pass battaglia Potenza Si è giunto a livello 1 Lei è la prima skin Se mi dai senza maschera Forse mi può piacere Ma così fa schifo Magari la utilizzo Ma fa un po' schifo Secondo me Secondo me Ok L'abbiamo acquistato Abbiamo fatto la nostra Samorata Vediamo la skin Se ha uno stile in più Recenti Non è più Marvel Adesso Direttrice del caos Il caos regno Fa parte del set Caos Cupo Prima apparizione Capitolo Refundato Nelimits Stagione Forte Nelimits Stili selezionabili Bianco Bianco E questa qua è bruttissima Bianco è più bello Però Non mi piace la maschera Non mi piace la maschera Quindi Non la userò la skin È una delle poche skin Che non utilizzo Femmine Però vabbè Cioè La maschera Mi dà fastidio Dov'è la mia skin? Eccola qua Quante skin abbiamo? 346 Sto facendo la collezione E Va bene Ok Adesso vediamo il passpattaglia Magari farò qualche taglio Se riesco Tanto nel negozio Non c'è niente di importante Allora Vediamo il passpattaglia Direttrice del caos Cosa Sono tutti meno i livelli adesso Fare le 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 compense Ah dammi questo Intanto Ok Queste me le riprendo subito 36.000 Ok Direttrice del caos Vabbè La nuova skin Nuovo Nuovo sfondo Questo è uno sfondo Sì La schiama di caricamento Piccone Piccone Carino Non uno dei miei preferiti Però è particolare Perché è diverso C'è quella specie di cosa nera Lì dentro Che lo rende diverso Anche se mi sembra La cosa cattiva Quindi di solito Non mi piace Direttrice del caos Direttrice del caos Sempre questo Stile Ok Questo Questo mi va bene Perché è diverso Rosso e nero Questo mi può piacere Questo cos'è? Ritmo del caos Non c'è copierete Vero Il ballo non è brutto Però va bene lo stesso Questo Melma Ok Questa è un po' bruttina Non mi piace Questa cattiveria Bombola di trimelma Questo è bello Ok Questo carino Ci può stare Poi dice il caos Che a me non piace Moltissimo Ma ha solo tre dita Per mano Oppure ha le dita Dentro In mezzo Non lo so Non ho capito Non capisco Vabbè andiamo avanti Quella lì non mi piace Dice spettrale Ok Sfollagente Spettrale Ah ma si chiama Sfollagente Sfollagente spinato Proprio Il cattiveria Spettrale Fa parte del stato D'ordine del caos Fa parte del set Cos cupo Beh bianco è più bello Bianco è più bello Bunny bones Muro di abiz E remiz Non so se c'è il copyright Quindi meglio cambiare Bombola di trimelma Spettrale Ecco bianco è più bello Cavalcavento Caotico Spettrale Tipo il cromo Ma il cromo Non era Delle stature Dei capitoli successivi Non era Di questo Non lo capisco Un miscuglio Di cose Lei bianca È più bella Però non mi piace Tanto come skin Palla 1 Abbiamo palla 8 Adesso c'è palla 1 Palla 1 E bello sfondo Ah che combatte Contro palla 8 Ok È buono Palla 1 O palla 8 Forse palla 8 È buono Stecca da combattimento Ah è un bastone Ah ok È tipo Quelli di Di biliardo Vabbè ok Capito Ci sta Bellissimo Radioso 1 Bello Sto cercando di fare Il più in fretta possibile Ubac Il colpo decisivo Bello questo Ah vanno tutte dentro A parte la bianca Bello Questo mi piace Caduta scatenata Ah con le palle di biliardo Tutte gialle Perché lui è giallo Beh giallo È più bello Di nero Quindi Secondo me Viene Viene più bello Palla 1 Ok Lui Non mi piace tantissimo Perché è troppo mascherato Però Vediamo com'è Fatemi un attimo Guardare In La maglietta Che vorrei vedere Palla 8 Dove ce l'ho Palla 8 Dovrebbe essere Non è questo Sentine l'assion Palla 8 Dovrebbe essere Tra questi Ma non capisco In che punto Eccolo qua Ho sblocato Il suo stile Modificato Quindi vorrei impostarlo Dari preferiti Perché Ci sta Ok Dopo metteremo anche Palla 1 Dari preferiti Continuiamo Alla visione De pass battaglia Questo l'ho vista Questo l'ho vista Questo l'ho vista Ah non è un altro stile Quello Palla 8 Palla 1 Sky in Incognito Ma questo è Sky Un altro tipo di Sky Già 2 di Sky 6 corde guffi Bello 6 corde guffi È un piccolo Ha la chitarra Bello Bello Possiamo stare Nella Metà Festival Click 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 Ah un dorso Telecamera Di fotografia Non telecamera Ah fa la foto Fa la foto Fa le foto E le sputa fuori Bello La epica di fluff Bello Già questo stile È quello che mi piace Di più Questa skin Guffe Tattico Bello Si muove anche Ok 100 v pack Ok va bene Andiamo avanti Sky in incognito Bella Sky così Il dorito Ricompensa Così è bella È la più bella Skin Skin di pass battaglia Questa si livella Più bella Skin di pass battaglia La potremmo utilizzare Per un po' di tempo Perché è molto bella Vediamo il prossimo stile Sky di mezzanotte Ok Click Di mezzanotte Così Ah no Questa è davanti Ah è Beh più bello Così però Più scuro Di come era così Questa è giallo E azzurro Questo qua invece È viola E rosa Secondo me viene Molto più bello Così Molto più Imponente Guf puff Bello Questo mi piace Lama di mezzanotte Di fluff Beh è bella Anche così Che posso dirti È bello anche così Il piccone Questa è un piccone È un piccone Scate mostro Ah in movimento Questo è immobile Beh è bella Dai Non è male Sky di mezzanotte Senza casco Magari è meglio Sembra Fai senza casco Senza Cappello Chiamalo come vuoi Non me lo fa vedere Ah no Me lo fa vedere Ok Beh uguale a quell'altro Praticamente È un po' più scuro Ma Beh ci sta La potremmo utilizzare Mia Oda Mia Oda Deve essere l'ultima skin Questa qua Filetto dorato Vabbè È bello Bello Piccone Mi piace Lo sfondo Non tantissimo Però va bene Ghigno dorato Di dorato C'è poco Eh Però va bene Ok Ah no Ecco diventa dorato Reattivo Quindi forse si colore In base all'eliminazione Più fai l'eliminazione Più diventa dorato Beh potrebbe starci Sta cosa Bello Nemesi d'oro Un altro strumento Di musicale Ah hanno aggiunto Cosa musicale In questa pass battaglia Pugnale felino Ah ok Quindi è un dorso Con due stili Vabbè Più bello Bianco e oro Comunque Mia Oda È un gatto Di una certa classe Fa parte del set Pompato e dorato Reattivo Un altro gatto Da sbloccare Quanto pare Ah si Diventa d'oro Anche diventa Completamente d'oro Vediamo il prossimo stile Mia Oda ombra Ah si Spettro e ombre Chaos Miaos Non so se le copie Però la canzone Non è male Spitz Murdebiz Remitz Non c'è C'è il copyright Schelle Squalo Beh è bello Anche questo dorato Lo useremo Dai Gnoda ombre Beh è più bello La tua stile Comunque Però va bene Lo sbloccheremo Se sono Abbastanza veloce Vi faccio Un unico video Senza tagliarvi Ne toccalina Dynamo È la skin speciale Lei Ah ok Doccalina Dynamo Allo sfondo Non mi piace mica Tanto Ah ma Settimana Zero Quindi sono In carichi Settimanali Qua Ah ok Dina boom Beh Sto colore rosso Acceso Acceso Mi piace È molto carico Questa mi piace Questa qua Bombe fuori Da Da spalla Non è proprio Da spalla Da schiena Però va bene Lo stesso Kaboom Beh è bello Come dorso Vediamo com'è La skin Icone stendardo Beh Questa non l'userò Non mi piace Bucchetti Bucchetti Di bombe Ah tipo Bucchetti di fiori Invece è bucchetti di bombe Ah bello proprio eh Forse preferisco Bucchetti di fiori Che le bombe Però va bene lo stesso È un piccone È da vedere se il piccone Esplode Perché se esplode Ti fa del male Quindi Non va mica bene Sta cosa Odore di zolfo Ma non penso che esploda Vendo sia solo Decolativo Magari cambia Stile Come quello Che si trasformava Ogni volta che colpivi qualcosa Quindi secondo me Potrebbe essere come quello Eh ma fammi vedere la skin Non mi fa vedere la skin Forse è ancora privata La skin Non si può vedere Zolizza ricompensa Eh non mi fa vedere la skin Però non è male Secondo me È abbastanza carina Caratone glicerina Dynamo Bello sfondo Non è male Amore granate Ah meglio l'amore Comunque Quarboom Ah quindi È razzi che esplodono Che diventano Cuori Ok capito Air Jordan Unite O G Black 2 Ray Maggi Pi lungo il nome Ah le scarpe Cazzature E le cazzature Adesso abbiamo le cazzature Dove si mettono le cazzature Capite di zagorre Esplosive Beh Lo useremo Dai vediamo come Se è grosso in partita Adesso dobbiamo vedere Allora questa me la fa vedere Ok Beh bella Bella mi piace Cartone glicerina Dynamo Fatta di cartone C'è nel senso cartone animato Beh non è male Vediamo come è anche lo stile principale Perché vorrei vedere anche l'altro Ma Non me lo fa vedere Quindi non si può vedere ancora Ricompensa e bonus Ah un altro Set di oggetti Ok Cavalcavento Caotico Vabbè nero Invece che Grigio bianco Va bene Ok Non mi piace Però va bene Limitarsi Molta Bit Non so se Copyright Cuore del caos Ok Ormai il copyright È dappertutto Ah 1 e 8 Che giocano insieme 1 vuole spingere la palla sull'1 E l'8 vuole spingere la palla sull'8 Beh decidetevi Chi vuole fare per primo 100 V-Bucks Vediamo se Se metteranno Nella mia idea Se metteranno anche il 2 3 4 5 6 7 Magari mettere tutto un set di stili Di numeri Così Anche in versione femminile Potrebbero fare così Per allungare un po' più di skin Però non sono tanto bellissime Comunque Spaccata Ah è il dettaprano dell'1 Vabbè non è male Questo dettaprano Direttrice vittima d'ombra Per così non mi piace È tipo medusa Medusa e cromo La vedi in mezzo E non mi piace tantissimo E gli altri sono da scoprire Quindi Non si possono vedere adesso Probabilmente stili aggiuntivi Speciali come La nostra energia Sicuramente sarà così La chiudi fortica Non cambia Quindi Va bene Dai abbiamo visto il pass battaglia Quanti v-buck ci sono Le pass battaglia 1 2 3 4 5 6 7 8 8 qua E 2 qua 1000 Quindi ti recupera i 1000 v-buck Che hai speso praticamente Non te ne aggiungono dei nuovi Vabbè speriamo che nei prossimi pass battaglia Ne mettono un po' di più Perché Mi piaceva come era prima Tanto questo è il pass battaglia remitz Quindi vuol dire che E' solo un pass battaglia di transizione Che fermeranno Faranno vedere un po' di cose E più dopo Anderà come un nuovo capitolo forse Faranno arrivare un nuovo capitolo forse Lo vedremo più avanti Adesso Intanto vi dico la mia skin preferita La mia skin preferita E' lei Skying incognito E' molto bella Quindi come pass battaglia Diciamo che è un 7 e mezzo Perché è bella lei E le arte fanno un po' schifo Però qualcosa degli altri mi piace Tipo la chitarra Vedi qua c'è la secola dei gaffi C'è questo qua da biliardo Che non è male E quindi va bene La mia skin preferita è questa Del pass battaglia Questo è l'altro stile scuro Però forse preferisco più questo stile Perché è più chiaro e più bello Forse avrà lo stile a cappuccio anche lei Adesso lo farà vedere Se credo Se ce l'ha anche lei Quella lì il casco sopra Ma io preferisco senza Quel cappuccio lì Perché Questo costume lì Perché non mi piace Quel costume Però lei è molto bella Quindi GG Complimenti Certo potevano dargli un nome Un po' più Diverso Perché Skying incognito Non è proprio un nome semplice Però Io lo chiamo Sky Perché è Sky In fondo In fondo è Sky È l'incognito Ma è Sky Vediamo le cazzature Come si mettono Coperture Questo cos'è? Ah è lanciarazzo Ok Lobby Strumenti Musiche Lego Questo cos'è? Ah no Scatto 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 Forse le devono ancora mettere Calzature Forse le devono ancora mettere Vabbè Le metteranno Il prima possibile Credo Va bene Dai è durato abbastanza Il video Magari farò qualche taglio Per farlo un po' più corto Spero che il video Vi sia piaciuto È durato un po' più visto Magari la parte Nel negozio Ve la taglio Vedremo di Tagliare la parte noiosa Adesso quando usciranno le nuove skin Vedremo se ci piaceranno Se saranno in stile Remix anche quelle Perché se mettono le skin Anche nel negozio Così Ci potremmo pensare E niente Dai Spero che il video Vi sia piaciuto Scatto Utilizzavolo il prima possibile E ve lo carico Appena posso Infatti non ho ancora Modificato il video Il secondo video Della giornata Perché Volevo farvi questo Quindi Quindi niente Quindi Per questo Non avete visto altri video Vi carico questo E vedete questo Domani uscirà un video diverso Rispetto a fortnite E non sarà la live Per questo video Lo vedrete Sabato E quindi Va bene Ditemi anche la vostra opinione Riguardo Destiny 2 Che ho bisogno di sapere Cosa devo fare Su Destiny 2 Perché Non so cosa fare Perché se Mi si bugano le cose Non si riesce a fare le cose Fammi mettere la modalità normale Modità normale Perché voglio Voglio finire il video Con la modalità normale Battle Royale Ok Battaglia reale Va bene Dai Come skin Mi piace Quella la Che vi ho fatto vedere Sky in incognito E le altre Un po' meno Però Ce le prenderemo Comunque Perché Sono Fanno parte Le pass battaglie E noi le dobbiamo Prendere Sperando che Tutto vada bene Io vi piace un like Se il video vi è piaciuto Un commento Condividere Gli iscriviti al canale E noi ci vediamo Un prossimo video A presto Spero di aver tagliato la parte Se no vi tengo il video tutto attaccato E ci vediamo alla prossima A presto Sperto di aver guardato il video Sperto di aver guardato il video